Eccoci all'appuntamento del sabato con il nostro TG itinerante. Sottolineavamo nei titoli come Guardia San Framondi sia stata set di film storici e sia terra di vini eccellenti. Nella bella località del Sannio c'è per noi Rino Genovese. A te la linea. Il castello, lo vedete, domina i vigneti in un profumo indescrivibile. Siamo a Guardia San Framondi e due giorni fa è iniziata la vendemmia del Fiano. In questi territori si concentra, pensate, il 50% della produzione vinicola, campana, quindi legate all'economia del vino tutte le generazioni. La signora Filomena, signora per voi che vendemmia è? Il numero? Ottanta. Ottantesima vendemmia per la signora Filomena. Fate un po' voi i calcoli. Siamo precisamente nei terreni della cooperativa La Guardienza, la più grande cooperativa agricola del sud Italia. a mille soci, 600 donne, Fiano, Falanghina, Aglianico, tantissimi i vini d'occhi, vini di qualità. Lungo le strade, chilometri di camioncini stracolmi di uva e numeri da capogiro. Qui si producono più di un milione di ettolitri di vino l'anno. Sì, giusto. Qui si trova la metà dei vigneti di tutta la campagna. Numeri da capogiro che stiamo cercando di portare in giro per tutto il mondo con degli ottimi successi e stiamo cercando di diffondere sempre di più la nostra qualità, non solo con la promozione ma anche con la tutela di questa qualità. Ormai cinque continenti, persino in Giappone si è arrivati. Sì, pare che ultimamente vada di modo in Giappone proprio questo abbinamento classico, cioè la pizza con i nostri vini e in particolare le bollicine, sulla quale il sanno sta appuntando molto. Pizza è spumantino ma non è soltanto il vino a rendere famosa guardia nel mondo, tante altre cose. Noi cominciamo da un rito antichissimo che si svolge ogni sette anni, il servizio di Annalisa Angelone. Ogni sette anni, dal lunedì alla domenica successiva, al 15 agosto, i riti in onore dell'assunta richiamano l'attenzione del mondo. I prossimi nel 2017. A colpire è la dimensione spettacolare della processione dei flagellanti e dei battenti che sfilano rinnovando la tradizione medievale dei penitenti. I primi si percuotono con la cosiddetta disciplina, gli altri con una spugna di sughero in cui sono conficcati piccoli aghi. Ma la comunità di Guardia San Framondici tiene a sottolineare la dimensione autentica della fede che anima l'intera settimana scandita dai misteri, le sacre rappresentazioni con circa 2000 figuranti. E' l'ultimo grande rito di penitenza dell'Occidente, del mondo occidentale, non c'è nulla di simile da nessun'altra parte. C'è qualcosa del mondo pagano che rimane però in una struttura rituale che è assolutamente cristiana. Sotto gli occhi di oltre 150.000 turisti e fedeli, circa 600 penitenti tutti incappucciati in un rito individuale e al tempo stesso corale. E' la Basilica dell'Assunta, location anche di grandi film. Nel 1954 la Titanus per il suo cinquantenario la scelse come location di un colossa. La Maddalena a Guardia San Framondi arrivarono i volti più noti del cinema del tempo. Marta Torrens e Gino Cervi. Guardia fu anche sede negli anni Ottanta di un importantissimo festival cinematografico internazionale. Poi tra Guardia e Cerreto fu girata la bella Mugnaia con Sofia Loren e con Marcello Mastroiani. Accanto a me c'è Pierino. Avete visto quei bambini nel filmato? Il signor Pierino era uno di quei bambini. Ora è cresciuto però i ricordi sono tanti. Qualche aneddoto dell'epoca? Mi ricordo benissimo quando Gino Cervi vestito da prete naturalmente faceva l'orticello nel cortile della chiesa. Coltivava con delle piante che avevano messe. L'orticello di Gino Cervi a Guardia San Framondi dai ricordi del signor Pierino a quello che potrebbe essere uno dei possibili futuri di Guardia. Davvero molto interessante la storia che ora vi proponiamo. Guardate. Tutto inizia tre anni fa. Claire Galloway, pittrice scozzese in giro per l'Europa, si firma a Guardia. Ne rimane affascinata, si trasferisce qui, compra casa, nel centro storico. Il programma televisivo statunitense House Hunters International racconta la sua storia e diffonde nel mondo le immagini di questo paese. È il boom. L'antico borgo si trasforma nel borgo degli artisti. Comprano casa americani, scozzesi, neozelandesi. Le motivazioni sono varie. Panorama. Questo è fantastico. È un posto straordinario, unico per trovare ispirazione per le mie opere, dice Thomas, pittore americano. Eric Scott, è uno scrittore. Trovo che la gente è molto amichevole. Posso vivere una vita di artista. Il vino è delizioso e mi piace molto, la natura anche. Melanie si è trasferita dalla California, ama gli animali e a Guardia si sta impegnando in un progetto contro il randagismo. E ho scelto di trasferirsi a Guardia anche una famosa regista hollywoodiana. Lei ha fatto tradurre in dialetto guardiese dai ragazzi di Guardia un film e noi vi proponiamo un simpatico trailer. Ricorcerato stasera si è anticipato con la cena. Ma che c'hai dicendo? È arrivato lo stesso processo. Venito io stiamo qua. Oh, ti fa vedere! Cucchia! Che è successo? Sta carriendo qualcosa. Sta scusendo. Ma se chi lo è arrivato? Ma vado a dormire. A dove sta, Nancy? Nancy, a casa tornò. Scritto, diretto e prodotto da Lori Agard, nuova residente di Guardia San Framondi. E intanto la vendemmia va avanti ma si è fatta ora anche ora di pranzo. Bene, in questi comuni del Sannio ogni comune ha il suo orgoglio che è il pranzo della vendemmia. Diverso comune per comune. Noi vediamo qual è il pranzo della vendemmia di Guardia San Framondi. Allora, prima i pani, che c'è il pane di grano, il pizzillato e il pane di grandurco, con le alici e il resto che c'era in casa, fatto sulla foglia di verza. Poi ci stanno le zucchine secche, i pomodori secchi, i fagioli, l'insalata di pomodoro e i peperoni ripieni. E poi c'è il parruzzo, il famosissimo parruzzo. Questa è una tradizione proprio guardiese, che ci stanno le alici, il peroncino, aglio, prezzemolo, tutto quello che si può fare. Un profumo stupendo, buon appetito a tutti, come anche il sindaco di Guardia San Framondi. Abbiamo parlato di tantissime cose, tante altre ce ne sono. Sono innanzitutto un bellissimo borgo antico, anche notevoli e prestigiose chiese, come la Chiesa dell'Assunto, l'abbiamo vista, ma ci sono anche tele importanti a Guardia San Framondi. C'è l'unica chiesa pianta ottagonale della Campania, quindi c'è tantissimo da vedere, da fare a Guardia. Ma lei è orgogliosa soprattutto di una cosa, di essere stato individuato quest'anno da Montalcino come... Vabbè, Guardia è stata individuata come comune esemplare, quindi ha avuto il premio dal comune di Montalcino come comune dell'anno. E io come sindaco... Comune del vino dell'anno. E quindi io come sindaco andrò a ritirare questo premio l'11 del prossimo mese a nome di tutti i miei. Ma soprattutto lei sta facendo un lavoro di sinergia sul territorio con le città del vino? Ma il paesaggio che avete inquadrato, che vede al centro Guardia, è un paesaggio di 50.000 abitanti, vogliono tutti insistere su questo, vogliamo diventare effettivamente un posto egregio. Non la Toscana del sud, ma un posto, diciamo, speciale del sud. È di certo, Guardia, è già un posto speciale, venite di persona a vederlo. Da Guardia San Framondi è tutto, linea allo studio.